Nell'elegante salotto del Chiaia Hotel, undicesima edizione della rassegna letteraria Poetè, diretta da Claudio Finelli e patrocinata dal Comune di Napoli. Da novembre a maggio un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani, tutti ad ingresso gratuito con inizio alle 18.30, per raccontare storie, ascoltare poesie, rivelare identità nascoste. Un osservatorio di cultura e di civiltà per affrontare i temi dell'esclusione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ma anche all'omogenitorialità, alle immigrazioni e alla malattia. Poetè è un punto non solo di aggregazione, di incontro, ma di riflessione e di apertura mentale, cioè è veramente un luogo che deve riguardare un po' tutta la città e quanto più cresce questo appuntamento e più si fa conosciuto e si fa conoscere dalla città per noi è una crescita culturale e soprattutto sul piano dei diritti importantissimo. Il tema scelto quest'anno è Il Viaggio e sono 25 gli incontri dedicati a libri e autori che mettono al centro i valori della solidarietà e dell'inclusione. Tra gli ospiti di questa edizione lo scrittore Fabio Canino, il poeta Franco Buffoni, la fondatrice delle famiglie Erco Baleno Giuseppina Ladelfa e il filosofo Giuseppe Ferraro. L'undicesima edizione di Poetè riparte dal viaggio. Dopo una stagione tristissima della politica italiana, i porti chiusi, i viaggi interrotti, noi abbiamo pensato che invece rilanciare l'importanza della veicolazione, del viaggio, della possibile vicinanza delle popoli sia veramente l'elemento fondamentale per scardinare l'immaginario della nostra società anche quest'anno. Con la lettura sicuramente non si salva il mondo ma probabilmente si riesce a gettare un po' più di luce nell'abisso che ci circonda. Impresa vuol dire anche partecipare alla vita sociale del territorio secondo me. Poetè è nato ormai 11 anni fa in un momento che Napoli viveva un periodo abbastanza buio e ogni anno purtroppo, aggiungo, dati i tempi che corrono diventa sempre più attuale, si rinnova automaticamente il messaggio di libertà, di apertura contro tutte le discriminazioni. Penso che il centro fondamentale sia il legame fra la cultura e i diritti, cioè quanto è importante crescere sul piano dei diritti acquistando una visione del mondo e mai come in questo momento noi ne abbiamo grande bisogno.